Ciao a tutti, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e lasciate un bel like al termine di questo contenuto. Mi fa piacere di aver creato un po' di brio con il video di questa mattina, il mio punto di vista, il mio umile punto di vista sul pessimo arbitraggio di massa ieri in Genoa-Juventus, però abbiamo un altro argomento da affrontare, importante, scottante, che divide e nemmeno poco, Dujan Vlaovic, è stato guardare un po' i numeri, se ho visto bene, nelle ultime dieci partite disputate dal serbo un solo gol rifilato all'Inter. Poi bisogna essere onesti perché ci sono state alcune gare, specialmente post quelle che aveva saltato perché per i problemi che ha avuto la schiena Vlaovic non era stato convocato né contro l'Atalanta né contro il Torino, aveva giocato poco, successivamente mezz'ora con il Milan, più o meno 22 minuti, 25 con il Cagliari, prima ancora aveva giocato neanche un quarto d'ora con il Lecce, quindi per fare un'analisi corretta e onesta dal punto di vista intellettuale bisogna prendere Dujan Vlaovic, quanti minuti abbia giocato e trarre poi una conclusione. Sicuramente che aveva giocato di più o meno colpisce come se è arrivato un solo lampo in queste dieci gare e credo che sia inutile soffermarsi sulla media rigori, ma bisogna fare un passaggio sul rigore che ieri Dujan regala a Federico Chiesa, si vede proprio che gli dice calcelo tu e poi Chiesa lo ringrazia una volta trasformato. Ci sono due chiavi di lettura. La prima è quella legata al fatto che questo è un gruppo vero, quindi ci si aiuta, Chiesa non segnava dal 23 settembre con la Juventus e quindi evidentemente Vlaovic ha cercato anche di aiutarlo a ritrovare la via della rete. E questa è l'interpretazione che ci sta. L'altra è di carattere personale. Qualcuno dice Vlaovic non se l'è sentita, è un attaccante da Juventus, titolare numero 9, che magari ha paura di sbagliare un rigore in quel di Genova, campanello allarme. Io devo dire una cosa, l'importante è che quel rigore sia entrato. Però avrei preferito che Dujan andasse lui sul dischetto, anche a costo magari di sbagliare nuovamente. Perché bisogna essere forti, bisogna essere forti mentalmente. Io credo che in questo momento, tra i vari problemi che ha Vlaovic in questa sua avventura alla Juventus, ci sia anche la componente testa. Cioè, un giocatore che è molto umorale, si fa condizionare pesantemente da uno stop sbagliato, da un passaggio errato da parte dei compagni, da un suo errore. Io trovo una grande fragilità da questo punto di vista in Vlaovic, al di là di qualsiasi discorso tecnico e tattico. La partita di ieri è stata insufficiente. È stato bravo a capire l'azione che poi ha portato Chiesa a procurarsi rigore, a trasformarlo. Per il resto, ha avuto una buonissima occasione nel primo tempo che non l'ha sfruttata. Due o tre situazioni spalle alla porta, in cui non ha gestito sapientemente il pallone. Un po' di nervosismo. Quindi non è stata sicuramente da parte sua una buona partita. Iniziano ad essere tante. Questo sì, iniziano ad essere tante. Inizia ad essere un trend molto pericoloso. Non sto a guardare complessamente i golfatti, che sono cinque, sono pochi. Soprattutto per le aspettative che avevamo, che ha lo stesso ragazzo e che si porta dietro in relazione dell'investimento. Perché non dobbiamo nasconderci. Vlaovic, questo macigno, se lo trascinerà fino all'ultimo giorno di Juventus. Il fatto che sia stato pagato oltre 80 milioni. Il suo contratto poi, all'apice delle gambe lavorative in essere, arriverà a sfiorare i 12 milioni e mezzo netti. Quindi sono cifre impattanti, impressionanti e che la Juve non si può permettere, verosimilmente, in una politica di sostenibilità. Ed è uno di quei motivi che la Juve sta cercando magari di allungare di un anno per abbassare il costo. Poi vedremo cosa succederà, vedremo anche cosa accadrà nel mercato. Penso più di estivo. Mi sorprenderebbe se qualcuno bussasse la porta di Juventus per Vlaovic in queste condizioni a gennaio. Però vediamo. Si fa fatica. C'è tanta fatica da parte di Vlaovic, da parte nostra capire come possa migliorare la situazione. Ecco, la mia vera preoccupazione è proprio legata al fatto che trovo di difficile risoluzione il rebus. Cioè capire eventualmente come Vlaovic possa cambiare il suo corso alla Juventus, come possa migliorare decisamente le prestazioni. Perché io ho sempre pensato che fosse prettamente una questione fisica. Cioè nella passata stagione Vlaovic non giudicabile per la pubalgia. In questa annata è partito bene fisicamente, ha fatto quei quattro gol. Poi c'è stato il digiuno di due mesi con il gol dell'Inter, rifiato all'Inter e in generale queste statistiche che abbiamo letto con una sola rete nelle ultime dieci apparizioni. Però è veramente una montagna russa. Una montagna russa che porta a dei sali e scendi a livello emotivo che un attaccante titolare da Juventus con il peso economico di Vlaovic non si può permettere in maniera più assoluta. È vero che se analizziamo complessamente tutti i gol degli attaccanti sono pochissimi. 5 Chiesa, 5 Punto Vlaovic, 2 Milik, 0 Ken, che non segna dal primo aprile. Sono pochi, sono pochi. Sono pochi e certificano anche come la Juventus in alcuni match. O crei poco, oppure invece sbaglia tanto. Perché ci sono state anche gare dove si è andati oltre le 20 conclusioni in porta. Penso alla sfida con il Verona, vabbè, anche lì arbitraggio un po' così con il gol tolto. 1-2 a Ken, che era buono. Quello nel contatto con Faraoni. Però capisco che in questo momento Vlaovic sia un tema. Sia un tema tra i tifosi. Quelli da social, quelli da strada, quelli che vanno allo stadio, quelli che commentano i forum. Leggevo Vecchia Signora, tanti tifosi juventini sono molto. L'abbiati con Vlaovic a prescindere da Allegri. Perché poi, se ci sono delle situazioni dove si sbaglia in maniera plateale e non da Juve, ci aggiungo io. E lì non regge nemmeno tanto il discorso del tecnico e non tecnico. Al di là dei rigori, che è un altro tipo di aspetto. Devi saperli battere. Può anche capitare di sbagliarli. Però il gesso, secondo me, di cedere volutamente il penalty a Chiesa non so quanto sia da apprezzare. Sicuramente a livello di gruppo. Sicuramente a livello empatico. Sicuramente a livello umano. La squadra c'è. La squadra ha i suoi limiti. Ma è squadra vera. È squadra che quotidianamente dal massimo. Ma mi sarebbe piaciuto vedere Vlaovic e dire io sono il rigorista incaricato. Questo lo prendo, lo segno io e voglio risultare sotto il settore ospiti. Invece ciò non è accaduto. E questo mi desta qualche perplessità. Proprio sul discorso testa. Un discorso che inizia a essere, secondo me, più di testa, che di tecnica, che di tattica, che di quello che volete voi. Però sicuramente ora queste statistiche iniziano ad essere preoccupanti. Io credo che anche il più grande sostenitore di Vlaovic ora qualche riflessione la stia facendo. Bisogna vedere. Bisogna vedere bene. Servirebbe un trend di gol consecutivi. Magari partendo da Frosinone. Ma per il momento non è così. Perché 80 minuti con l'Inter arriva il gol. Quindi ti aspetti che si possa essere sbloccato. Poi partita successiva col Monza. Male. Sbaglia il rigore. 70 minuti, 0 gol. Con Napoli, 70 minuti, 0 gol. Con Genoa, 68 minuti, 0 gol. Inizia a essere tosta. Inizia a essere tosta. Ma sono molto curioso di sapere il vostro punto di vista. Che fotografia fa te di questa situazione. Iscrivetevi qua sotto. Iscrivetevi qua sotto.